Un saluto affettuoso a tutti voi. Oggi voglio farvi un video per dimostrare come ho trasformato il mio salone. E chi l'avrebbe mai detto che dopo tantissimi anni di matrimonio avrei trasformato questo immenso mio salone in una, come dire, in una grande stanza nel quale sto svolgendo il mio lavoro. Impossibilitata per come sono a poter uscire a fare le dimostrazioni vere e proprie come facevo un tempo. Però ad essere sincera, voi non ci crederete, ma mi sento più vicina ora a voi che quando andavo in giro dalla mattina alla sera. Perché so che siete tanti che vi collegate quando faccio le dirette, che vedete le mie ricette, le promozioni che l'azienda mette e so che alcuni sono stati capaci a usare i coperchi, il nostro fantastico Magic Cooker è ancora di più. Oggi voglio farvi questo video per mostrarvi tutti i prodotti che questa azienda sta creando Cominciamo dalle due padelle vulcaniche, la 24 e la 28. Poi abbiamo anche la wok 32 e abbiamo la wok qui là in fondo quadrata, 32. Questa azienda dà la possibilità anche di fare la raccolta punti. Poi ancora abbiamo la bistecchiera con la cupola, abbiamo la quadrotta col coperchio quadrato 22, abbiamo la batteria della linea perfetta che la vedete la 28 come tegame, casserola 20, casserola 24, padella 20, padella 24 e padella 28. Poi abbiamo anche altri pezzi. Qua sotto abbiamo la wok qui, sempre perfetta, la wok 28, sempre della linea perfetta, la padella 32. Qua ancora abbiamo delle due casseruole della linea vulcaniche. In fondo c'è la padella 28, sempre linea vulcanica. Abbiamo la lasagnera quadrata, quadrata. Abbiamo la vaporiera formata da tre pezzi, due dei quali pezzi sono abbucharellati e questa pentola sotto funziona anche come una vera e propria pentola. Abbiamo qua la lasagnera rettangolare. Io ho alcuni alimenti in giro perché domani devo fare una diretta, mi raccomando, non mancate. Quelle altre cose che vedete in giro sono che mi servono per poter lavorare tranquillamente qua in questo stanzone senza che qualcuno mi possa aiutare a prendermi quello che mi serve. Quindi ho tutto, come vedete, a portata di mano. la c'è il tris di padelle, che ho mostrato poco fa, che c'è la padella 20, la 24 e la 28. Qua abbiamo la campana che va a chiudere anche i tegami da 32 a 34. Abbiamo la batteria quadrata, diamanti, che va anche su piano induzione. Abbiamo la pentola alta quadrata, 29, che la chiude il coperchio 30 quadrata. Abbiamo quella più piccola, che la chiude il 27. Abbiamo il tegame 32, che la chiude il coperchio quadrata 35. Questi tre tegami sono anche della linea vulcanica, che c'è la casseruola 32, la 28 e la 26. Questa è una pentola quadrata. Quello che non abbiamo in promozione attualmente si può avere comunque se lo mettiamo nella lista dei desideri. Quindi, anche se non c'è la proporzione attuale, è importante farmelo sapere che appena sarà in vendita con la promozione, sarete avvertiti. Qua, come vedete, abbiamo completa la bestecchiera con la cupola. Questa è un altro tegame della batteria linea perfetta, che vi ricordo che la linea perfetta va anche sul piano induzione. e l'antiaderenza all'interno è in polvere di diamante. Queste pentole sono prive di sostanze tossiche, come ad esempio PF-OA, prive di cadmio, prive di piombo e di nichel. La batteria quadrata vista più da vicino. La cupola che va, ripeto, a chiudere anche i tegami da 32 a 34. Qua le tre padelle. Abbiamo la pentola ovale con il coperchio, con l'altra pentola quadrata. Abbiamo il kit di forno, nel quale possiamo cucinare di tutto sul gas. Abbiamo il coperchio 30, il coperchio 41 con il tegame diametro 40. Tutti i vari ricettari che vi arrivano completamente in omaggio con gli ordini che farete. Però hanno anch'esso un costo, perché sono anche in vendita. Esempio questo costa 29,90 euro. Questo del pesce, 49,90 euro. Quindi come vedete, ogni ricettario ci sono 60 ricette. I ricettari sono tantissimi. Qua abbiamo il coperchio quadrato 30 con il coperchio quadrato 22. Qua abbiamo un tegame quadrato della linea della batteria aria. C'abbiamo anche questo piccolo. Abbiamo i tre coperchi diametro 21, 27 e 31. Vi mostro da vicino. La lasagniera rettangolare, col coperchio rettangolare. Attualmente non è in promo. Però ripeto, tutte le cose che in questo video vedete che non sono attualmente in promozione, chi ha voglia di averla a casa propria, li metteremo nella lista dei desideri. Basta che me lo faccia sapere. E appena saranno in promozione, sarà avvertita. Come vedete ho tutto a portata di mano per rendere il mio lavoro, anche se sono chiusa in casa, per renderlo piacevole, costruttivo e per stare vicino a voi, almeno online. Qua abbiamo la pentola della linea aria 32, che la chiude il coperchio 35. Questa sopra è la pentola, il pentolino della linea perfetta, che lo chiude il baby. L'abbiamo un coperchio 27. Abbiamo il depena che ci parla della raccolta punti, che tutti la possono fare, tutti possono vincere. Come vedete tutto a portata di mano per rendere snello il lavoro che faccio in questa stanza. Ed essendo da sola, così non ho bisogno di qualcuno che mi vada a prendere un qualcosa che magari sta lontano a me. Così tutto a portata di mano. Qua abbiamo un coperchio 25 della linea dinamiche. Abbiamo il baby. Poi vi voglio mostrare questa piccolina rossa e la modifica, che con questa possiamo trasformare un coperchio classico in dinamiche. Che facendo l'ordine si può dire, si può avere diciamo con l'aggiunta, si può avere come regalo al contributo. Qua abbiamo il detersivo universale della MagiCookery. E con questo si pulisce di tutto, proprio di tutto, e tutto torna nuovo brillante, come se fosse uscito appena dalla fabbrica. Qua impianto sempre i due telefonini per fare le ripresse quando faccio le dirette. Quando faccio le dirette mi assento per poco, magari per due metri, perché infatti qua il congelatore quando mi serve qualcosa, mentre faccio le dirette, così ce l'ho subito qua a portata di mano. Come vedete è arrivato il momento per poter sfruttare questo stanzone enorme. Prima ci entravo solo a fare le pulizie. Infatti se veniva qualcuno, qualche ospite, lo faccio con le cucine che abbiamo oggi, lo faceva entrare in cucina. E questo salone era sempre deserto. E ora è arrivato il momento di usarlo a mio piacere. E far sì che mi sia utile, molto utile per il mio lavoro. Ok, un saluto affettuoso di nuovo a tutti voi. Poi le dirette le faccio lunedì, mercoledì e venerdì. Quella di mercoledì prima la facevo giovedì, ma ora ho cambiato. La farò di mercoledì. E quindi quello che facevo di giovedì, che era sempre la dimostrazione Maggi Cuccheri, ora la dimostrazione Maggi Cuccheri sarà fatta ogni mercoledì. Un saluto a tutti voi. Ok? Ok. Ok.